Oggi è una giornata davvero bellissima e fantastica, è stato un po' un trauma svegliarci, però ce l'abbiamo fatta. Andiamo a farci un giro. No, cosa facciamo? Non lo so, cosa vuoi fare? Un paio di scarpe. Con questa giornata tu pensi alle scarpe. È sempre un buon momento per pensare alle scarpe, ovviamente, però... Non so che l'hanno offre tanti divertimenti e tante indistrazioni. Cosa facciamo di pomeriggio? Io sono stata un po' più che altro oggi l'hanno in accessibile perché ci sono tanti turisti. Avevo catò in a bella 600 che andava veloce, ci u'forte du vento, vè conto un pastore e dicumale andetà, che in cinque minuti me l'han subito fatta. Avevo catò in a bella 600 che andava veloce, ci u'forte du vento, vè conto un pastore ed ecumale andetà, che in cinque minuti me l'han subito fatta. Una cosa ho capito Quando le ragazze hanno fame Diventano cattivissime Quindi mai farle aspettare E ora mi tocca correre per raggiungerle Sushi o aperitivo? Sushi o aperitivo? Sushi, ovviamente Siamo arrivati ad Albenga Ci stiamo apprestando ad entrare Come si chiama? Sushi in Sushi in, menù fisso 12,50 euro Puoi ordinare quante volte vuoi Tutto quello che vuoi Fino alle 3 del pomeriggio però L'unica cosa È che non ci danno da bere Quindi qualunque cosa tu ti predi da bere Costa parecchio Un'acqua naturale 2,80 euro Mi sembra un po' eccessivo Mi sembra un po' eccessivo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo in un posto infestato da creature malvagie e terribili. Ne abbiamo appena incontrata una. Anneli di fumo, i risultati, non fumate ragazzi.